Il provvedimento di chiusura resta sospeso, lo ha deciso il giudice di pace di Sulmona Gianna Cipriani, che ha riaperto sostanzialmente il bar chiuso sabato scorso dalla polizia per la violazione della normativa anti-covid di riferimento. Il giudice ha accolto l'istanza urgente deposierata dall'avvocato Giovanni Autiero, disponendo la sospensione dell'efficace esecutiva del provvedimento impugnato. Contestualmente sarà fissata l'udienza di merito per il prossimo 14 dicembre. L'avvocato ha contestato l'omessa dichiarazione della norma di legge e le circostanze che hanno determinato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Secondo la polizia, i due avventori trovati all'interno del locale sarebbero stati sorpresi nell'atto risorseggiare un aperitivo al bancone. Per questo è stata elevata la sanzione amministrativa ai clienti al titolare di 400 euro ciascuno, con il contestuale provvedimento di sospensione per cinque giorni. Per l'avvocato si tratta di semplici clienti che erano al bancone in attesa di pagare e ritirare le bevande d'asporto prima delle 18 come previsto delle misure per la zona arancione. Il giudice ha accolto l'istanza e il bar può riaprire. L'attività antidroghe e anticovid eseguita nel weekend dalla polizia si è chiusa con due denunce e tre dosi di cocaina sequestrate. La sostanza stupefacente recuperata non ha nulla a che vedere con i bar in questione i suoi avventori. Gli agenti del commissariato in quell'occasione hanno sorpreso ML, un 38enne sulmonese di origine straniera, mentre posava nei pressi del bar un involucro contenente due dosi di cocaina del peso complessivo di circa un grammo. I successivi accertamenti hanno portato la polizia a denunciare il giovane per detenzione a fini dispaccio di sostanza stupefacente e a deferire DCV, un 39enne di Roccaraso, che nel corso del controllo avrebbe gravemente ingiurato e oltraggiato i poliziotti nella loro attività d'istituto.